Simignano è un borgo di appena 17 abitanti sulla montagnola senese prima del 1972 compresi i poderi si contavano 280 residenti poi lo spopolamento delle campagne non ha messo solo a rischio il futuro del paese ma anche l'allevamento simbolo di questo territorio quello della cinta senese dalla piccola frazione di sovicille partita negli anni 80 del secolo scorso la riscoperta di questo allevamento e un ruolo fondamentale l'ha giocato l'azienda Bezzini alla fine del 1800 quando angelo bezzini quindi il primo bezzini a venire al lavoro ed abitare a Simignano viene al lavoro appunto come mezzadro in questa in questa fattoria e nel 1929 nasce il suo terzo figlio giuseppe bezzini a giuseppe bezzini va il merito di aver acquistato la fattoria 450 ettari alla fine della mezzadria nel 1972 dove ha continuato ad allevare la città senese come il padre aveva fatto prima di lui una scelta che si è rivelata provvidenziale tant'è che nel 1984 quando riparte no questa ricerca su una razza considerata estinta si pensa c'era qualche decina di esemplari in tutta la toscana ecco l'universo questo progetto tra l'università di siena differenze insieme vengono da noi prendono insomma e ritirano su questa razza dando a beppe appunto il titolo di salvatore della scelta l'avventura della famiglia bezzini prosegue poi con andrea che è tra i fondatori del consorzio della scelta senese dopo oggi a portare avanti la tradizione sono cristina bezzini e il marito carmelo noi alleviamo circa 120 animali in 450 ettari di proprietà un pascolo semibrado ovviamente con un diverso atteraggio che varia tra boschi di leccio querce castagneto da frutto e seminativi una parte seminativi utilizzati per il pascolo in questo periodo fondamentale è una parte che seminiamo con ad esempio favino orzo insomma che poi destiniamo appunto al forale insomma al cibo prima i nostri maiali grande l'attenzione rivolta al benessere alimentare da qui la scelta di limitare la produzione di assicurare un'alimentazione più possibile naturale allo stato semibrado ecco quindi che le scintese nesi si nutrono di corniolo ghiande castagne questa ghianda e questa castagna danno contribuiscono a dare un sapore unico al grasso e la particolarità di sciogliersi a 36 gradi la nostra temperatura corporea l'azienda bezzini è rimasta a conduzione familiare oltre alla cinta senese si dedica alla castanicultura alla semina dei campi all'agriturismo e un po di ristorazione l'attività riflettiva esprime numeri importanti per questa piccola realtà credo che noi appunto in questo momento abbiamo una responsabilità nel mandare avanti e mi auguro che anche i miei figli quando sarà il loro momento possano fare lo stesso